Ciao a tutti e bentrovati nella cucina di ricette che passione! Oggi insieme prepariamo la crema pasticcera all'arancia, veloce, leggera e gustosissima! Vediamo come prepararla! Con le arance appena raccolte prepariamo 50 g di succo di arancia appena spremuto. Possiamo arrivare anche a 100 g per un gusto ancora più deciso. In un pentolino dal fondo spesso o dal doppio fondo andiamo a mettere 3 cucchiai di zucchero. Aggiungiamo 2 cucchiai colmi di farina doppio zero o meglio ancora frumina. Nel caso di frumina possiamo metterne anche 2 cucchiai non proprio abbondantissimi. Aggiungiamo ancora un uovo intero o se preferite 2 tuorli. Così la crema verrà ancora più colorata di giallo. Iniziamo a mescolare per ottenere una crema senza grumi. Aggiungiamo poco alla volta 450 g di latte in modo da ottenere una crema fluida senza grumi. Il latte lo possiamo usare anche caldo, in questo modo la nostra crema si addenserà più velocemente in cottura. Aggiungiamo a questo punto anche il succo d'arancia. Per rendere la crema ancora più gustosa aggiungiamo della scorza d'arancia grattugiata. Cuociamo sempre mescolando fino a portare a bollore la nostra crema. Ed ecco che la crema inizia ad addensare e a diventare sempre più cremosa. A bollore possiamo spegnere la crema oppure lasciamo ancora un po' sul fuoco per farla addensare meglio, in base ai vostri gusti, ma ricordate sempre che una volta fredda sarà ancora più densa, soprattutto se usiamo la frumina. Versiamo la crema in una ciotola, copriamo con pellicola a contatto e lasciamo raffreddare. Quando la crema sarà raffreddata l'andiamo a mescolare bene e usiamo per tutte le nostre ricette. Buonissima anche da mangiare al cucchiaio o con aggiunta di panna montata. Buonissima Buonissima Buonissima